Ragazzi, oggi per la prima volta sono su StumbleGuys Allora, in realtà devo essere sincera, ci avevo giocato con Robby due volte Ma poi non ci ho più giocato perché non sono fortissima Ma ho deciso di portarlo e diventare forte insieme a voi Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale E adesso scegliamoci il personaggio e andiamo a combattere Allora, vediamo un po' cosa abbiamo Innanzitutto abbiamo il giro della fortuna Quindi vediamo un po' cosa mi uscirà Speriamo qualcosa di carino No, no, no Potevo avere 150 gemme e invece no Solo 5 gettoni di StumbleGuys D'accordo Ora andiamo avanti Vediamo se ci possiamo prendere qualcosa E in realtà non ci possiamo comprare nulla Personalizziamo il nostro avatar perché le altre volte non ci avevo fatto caso Ecco, sono una femminuccia No, 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 perché mi ha cambiato? Io voglio essere una femmina Perfetto Ora mettiamo il colore della pelle Direi che sono color rosa Quindi quello più chiaro useremo E poi vediamo che emoticon possiamo utilizzare Eccola qui Perfetto Siamo delle ballerine perfette E ora possiamo iniziare a giocare Ragazzi, non vi assicuro niente Però speriamo bene Allora, vediamo che percorso mi uscirà Speriamo qualcuno che mi sia già uscito Questo qui devo correre verso l'arrivo il più velocemente possibile Non ci gioco da tantissimo tempo Vai Dani Vai Dani Ragazzi, stavo già cadendo Ok, ora devo saltare No, 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 no Ecco Io ve l'ho detto che non sono tanto forte Però, ragazzi Man mano che ci giocherò Perderò in continuazione Allora, sapete cosa vi dico? Ora faccio un po' di riscaldamento Vado da questa parte qui E risprofondo Ragazzi, ma voi siete forti su StumbleGuys? O siete un po' scarsi come me? Non mi spingete cari amici No Non ci credo Ragazzi, questo perché non state lasciando tanti like sotto a questo video E ovviamente sono stata eliminata Basta, mi spiace Io non voglio vedere le altre partite Perché secondo me sono il più forte di sempre Andiamo avanti e riproviamoci Vediamo cosa uscirà Questo devo essere sincera Una volta ho vinto Quindi possiamo farcela Vado, vado, vado Corri, 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 corri Prima degli altri Ok, perfetto, perfetto Vai Dani Non ti far prendere da nessuno Continua a camminare Guardate, guardate Ora devo saltare in continuazione Vai, vai, vai Dani, Dani corri Vai Perfetto, perfetto Ci siamo ragazzi Io non sono brava a questo No, 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 no Non ci credo Ok No, 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 no Vai Salta Vai Dani Vai Dani Ce la vuoi fare Vai, vai Dani No No, non ci credo Non ci credo No ragazzi Questo livello è difficilissimo Ok Cioè, o almeno per me Vai Dani Vai Dani Allora, ho capito Devo stare in silenzio E farcela No Cioè, sto perdendo in continuazione Allora, sapete che vi dico Aspetto che il coso giallo Si avvicini E ora vado No Era la mia occasione Era la mia occasione No, non ci credo Ragazzi Cioè, io credo che Dovrò chiamare a un certo punto In aiuto il mio fidanzato Robby Perché lui è fortissimo E io invece sono scarsissima Cioè No Guardate Qualificato No Non ci credo Ragazzi Lo so Che cosa starete pensando In questo momento Nei commenti State scrivendo Sei scarsa Sei scarsissima Ma io vi giuro che Vinceremo Cioè Alla fine di questo video Io vi darò Una soddisfazione Quella di vincere Allora Il livello Che di nuovo odio Lo stiamo per rifare Non capisco dove sono Ok Perfetto Devo seguire questa massa Di omini Dani Cammina E non mi spingete Che sennò vi picchio Vi picchio tutti E sappiatelo Ok Ok Perfetto Andiamo Andiamo Qualificata Io ve l'avevo detto Vi voglio tantissimo bene amici Un sacco di persone Sono state eliminate Procediamo Procediamo Io credo In noi In tutti i miei amici Che mi seguono Vediamo ora Cosa mi uscirà Però ragazzi Mi dovete promettere Che se io Vincerò Un torneo Voi Mi aiuterete Ad avere tantissimi like Sotto questo video Perché devo dimostrare a Robby Che io in realtà Sono forte Perché ogni volta Lui mi dice Sei scarsa Non sai giocare E invece Dobbiamo creare Una forte famiglia Allora Un momento ragazzi Qui non so come si gioca Ah devo fare gol Ok Ok Perfetto Devo fare gol Ok Ah siamo divisi tipo a squadre Un momento Ok Vai amici Amici blu Amici dei puffi Dove sta la palla Ho perso la palla Ragazzi Un momento Palla Vieni con me Non ci posso credere No 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 Ok Andiamo Andiamo Dani 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 Corri Dobbiamo fare gol In questo Perché noi siamo blu Ma vedi a questo qui dorato Questo player Non ci credo Dove sta la palla Dove sta la palla No No Ci hanno fatto gol Siamo uno a uno Non ci credo Andiamo Andiamo Vai Omini Aiutatemi No 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 Dall'altra parte Dall'altra parte Non ci credo Non ci credo Vai Vai Facciamo gol No 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 C'è ragazzi Ok Due a uno Vai Omini Omini Andiamo Andiamo Vai Tre a uno Non ci credo Ok Andiamo Andiamo No 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 Hanno fatto un altro gol Hanno fatto un altro gol Dobbiamo spostarla Dobbiamo spostarla Vai vai Dani Vai Dani Profilo di Dani Aiutate mio mini Però cioè non è che posso giocare solo da No Fanno tre a tre Tempo supplementare Non ci credo No Sono stata eliminata Però devo essere sincera Qui non gareggiavo da sola Quindi mi spiace ragazzi Andremo avanti Vediamo se però Guardate Ho conquistato dieci coppe Vediamo se abbiamo Un giro fortunato Vediamo cosa mi uscirà Speriamo qualche omino carino Vediamo Vediamo Un No Volevo l'epica Però abbiamo ottenuto Un ranger king Magari questa volta Riusciamo a vincere Con lo sceriffo Lo sceriffo Dani Che in realtà è maschio Però Noi ci giochiamo comunque Qui forse siamo forti Anche se No Il pivot push È un livello Molto difficile Allora Dani sceriffo Concentra Segui la massa Bravissimo Guardate il trucco No 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 Questo trucco Non va bene Ora passo di qua Guardate Guardate qui Quanto Sono forte Questi muo rimangono schiacciati Io ci passo Ok Saliamo 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 No no Non ci credo Vai 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 Ok perfetto Questa è la parte che più odio Ma No 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 Dani Dani No no Siamo caduti Siamo caduti Allora Vai Dani 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 Ok Dani fermati qua E ora Corri 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 Ok Ci siamo Ci siamo Vai 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 dai Cioè ragazzi sono migliorata tantissimo Cioè il trucco È giocarci il più possibile Guardate Ora Salto qui No Non ci credo Sono rimbalzata in basso Ok Devo mettermi No Ma perché non riesco a saltare Non ci credo No 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 13 su 16 Ora Ora si equipaggiano E io perderò No no ragazzi Cioè ragazzi Non ci posso credere No ragazzi Allora Questo non mi ha portato fortuna Ora Riproviamo il giro fortunato Magari Non saprò giocare Ma sarò fortunatissima Vediamo 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 Ovviamente Cinque gemme Cinque gemme Sapete cosa vi dico Ora vediamo Se sono io che non sono forte Oppure oggi è il giorno sfortunato Roby Dani che è successo Dimmi tutto Dimmi tutto Ascolta Roby Io devo essere sincera Non sono fortissima Però mi dica aiutare Però aspetta un momento Anzi no lo farò Lo farò dopo Mi devi giocare una partita E devi vincere Voglio capire se oggi è il giorno sfortunato Ci provo eh Cioè non è che sono infallibile No tu sei sempre stato il king Di tutto Quindi devi riuscirci Va bene Almeno proverò ad arrivare Almeno in finale Sei messa in finale È un livello Sono stata qualificata Devo essere sincera Ah ok Qui non riuscivo a saltare Ora voglio vedere Il tuo La tua tecnica La mia tecnica è andare più avanti Tra tutti quanti Ok Perfetto Allora qui ci sono riuscita anche io Ed ero anche molto brava Sì 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 Ovviamente Dani Tu sei sempre bravissima Guarda poi anche qui Sono riuscita A sorpassare questo livello qui Anche questo Devo essere sincera Ho usato delle strategie Molto molto complicate Sì E poi però Guarda Vai avanti Ti vai avanti Sì lo sai che sono primo Hai visto Sì Robby Non ci credo Ecco Può capitare Dalla molla Non riuscivo Anche ai migliori Può capitare E sono primo lo stesso No ragazzi Non ci posso credere Eh sì Capita Da ricapita Essere primo Ti porta poi ad aspettare Tutti gli altri Che scocciatura Che scocciatura Poverino Io vorrei diventare Prima Robby Mi devi insegnare A giocare Robby Cioè io lo so Che voi amici Volete che io Ci giochi Quindi mi raccomando Scrivete nei commenti Se volete che io Continui a portarvelo Sul canale Allora Robby Round 2 Quindi vediamo Se riesci a superarlo Anzi io spero Che tu non riesca Perché magari oggi È il giorno sfortunato E quindi io sono forte Ma che mi hai chiamato a fare Allora giocaci tu No 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 Gioca gioca Voglio vedere com'è Arrivare i primi Ok Ma no non lo so Se ci arrivo prima Cioè io che ne so Dani Non sono mica infallibile Io uno non ci può provare Non è sempre così Guarda Robby Ma come vai veloce Eh sì Funziona così Devi correre Se vuoi riuscire a vincere Ecco come hai parlato Dani È successo Una cosa che non doveva succedere Corri Ok Meno male Bravissimo Robby Siamo ancora qui Evitiamo questa palla No 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 Non cadere Non cadere Tranquilla tranquilla Possiamo ancora farcela Non è ancora finita Dani No ma ci sono dei cannoni giganti Sì Dani Ci dovremmo qualificare E andare in finale Bravissimo Ecco Quindi adesso Tu potrai fare la finale Se puoi perdo Allora Allora se inizio ad essere scarsa Robby Tu intervieni Eh no vabbè Ma appena inizi ad essere scarsa Hai già perso Veramente Perché qui è una finalissima Dani E allora Vediamo un secondo Cosa uscirà Che percorso esce Ok Vediamo No 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 Robby 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 Va bene Questo non l'ho mai fatto Voglio vedere come lo giochi Ok Dani Bisogna saltare sui blocchi Cioè nel senso Saltare e non colpire i blocchi Wow Se colpisci i blocchi Perdi praticamente Già una Persona è stata eliminata Ora due Due Dani Eh sì Eh sì 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 Non è facilissimo ovviamente Anche perché poi questi omini Sono molto cattivi Ti spingono a destra e a sinistra Su e giù Eh certo Perché siamo tutti Conti tutti Questa qui è la finalissima Dani Vai Robby Robby non mi deludere Credo in te Sei fortissimo Eh ma quant'anzia mi devi mettere Se dici così però Dani E poi guarda Ti chiami Dani Cagnano Perché questo è il mio account Eh sì certo No ho sbagliato Ho sbagliato Ecco qua Per fortuna Ci siamo riusciti a salvare Forse qualcuno adesso cadrà Speriamo Speriamo Tre Quattro Sei Sì Robby ma sei l'ultimo Forse sono l'ultimo Ne manca soltanto No ce n'è un altro Robby stai attento Questo mi sembra molto cattivo Un omino di ghiaccio E l'omino di ghiaccio Siamo soltanto io E l'omino di ghiaccio A quanto pare Mamma mia Sembra forte però lui Eh te lo dico Te lo dico Dani Io non ho mai vinto nulla Questo chissà quante cose Avrà vinto Non lo so Io ci sto mettendo Tutto quanto Dani Ci sto mettendo Tutta la mia grinta Guarda guarda Come ti segue No 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 Robby No Ma come ha fatto A arrivare lì sopra Dani eravamo Siamo arrivati i più secondi Dai secondi Non è male Questo player qui L'uomo di ghiaccio Ha vinto Però vabbè Noi sicuramente Adesso abbiamo vinto qualcosa Vero? Eh sì Comunque ho vinto Un sacco di coppe Di esperienza 30 20 coppe 30 stelle Perfetto Grazie Robby Sei stato molto gentile Ciao Ciao Ragazzi mi sbagliavo Oggi non è un giorno sfortunato È un giorno molto sfortunato Ma solo per Ti sa vincere Quindi Niente La prossima volta Cercherò di allenarmi E di registrare un video Soltanto per voi Quindi mi raccomando Lasciate tanti like E noi ci rivediamo domani In un prossimo video Ciao